È questo che i giocatori con esperienza e il leader della squadra sta a far capire a tutti gli altri che qui siamo una squadra che se non si corre, non si vince. Adesso il calcio di oggi è molto fisico e ci sono squadre che hanno tanta qualità, hanno una possibilità di comprare giocatori molto più forti che noi e noi che dobbiamo fare? Fisicamente essere meglio che loro, correre di più per arrivare prima che loro, quindi lo abbiamo fatto, lo stiamo a fare da tutto quest'anno, da tutto il 2022 e l'avversario soffre tanto quando gioca contro l'Udinese.